Ciao! Eh, ma che ti fai citato la legge stamattina? Senta d'interno che si sceglie! E' un uomo non vale proprio niente, ha un uomo e un bastone, caro! Fratello Salvatore, ho sapevo che ha uscito la piccata contro le armi! E' normale, come hai passato la terra e te ne si chiude! Ma tu foda me! Io appena ho sentito la fine e ho detto scappa la polizia! E non ho pensato che non mi scappa nulla! E come faceva me ne scappa? Tu non puoi neanche immaginare il dolore che ho provato a questo ginocchio! Io ho fatto appello a tutte le mie forze per raggiungere il primo ospedale così! E non mi ha mai chiamato la polizia! Perché se la polizia mi ha chiamato, avevo prima niente per fare l'oro e non mi diventa la stessa cella di mamma! Eh, non fu il freddo! Ti è pieno di sbagli sta come tu! Se io sono come tu e il bastone tu con il mio maritone non fai niente! Eh! Proprio la robocicletta ha scettato a te! E tu che fai? Te ne vai a fottere uno come se mi scazzato salvatore! Anche non volevo la prendere! E che stavo a fare? Stavo a prendendo l'arte dal meccanico salvatore! Ah! Tutto bene quello che finisce bene! Perché tu la polizia hai messo eh! Proprio la prendere mi scappato! Io non mi sono assicurato! Mi sono andata con la barbata che c'è da questo! Vai a prendere senza di me! Non ti preoccupare la borsa rompete! Ma qui c'è una cosa che è cambiata! Va a me e tu! Ma come non porta a me i piedi? Ti faccio la polizia! Ti faccio la parte che mi spetta! Ma guardate! Ma tu lo conosci! Ma voi siete conosci! Come non porta a me! Io voglio la borsa! Ma lui è il proprietario della borsa! Ma fa poco scema! Ma non va che inc'è! Ha detto che è stato ricoverato insieme a me perché i manioli quando ci hanno fatto andare hanno fatto il battere in terra che la botta in terra si fa tornare insieme a me! Ma non va che inc'è! C'è tu! Ma non mi preoccupare! Ma non ti preoccupare! Ma pensi che stessa la botta a te ha perso la memoria e perciò non ricorda niente! Ah, ricorda che la bella signora passiva insieme a me! Ha detto che è stato ricoverato! Non è riuscita a riconoscere i manioli! Perciò, sbottiamo il stato pieno! Ehi! Ma possiamo stare sicuro! Ehi! 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 Ah, che signora! Mi ricordo! Ma come non mi preoccupare! Adesso avrà altro come pensare! Ma perché? Ehi! Ehi! Ha visto sapere! La promenata al posto di un'altra l'archività che ci hanno dato! Ehi! Perché ci hanno dato un punto di scritto! Ci hanno dato una forza! E ci hanno dato una prova! E ci hanno dato una parola! Aspetta! 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 sciclo dai maio non lo fai facendo 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 non lo fai ma tu non lo fai ma tu non lo fai e ti dico e ti dà un attimo di stare qua un'altra volta ecco che si stai avanti la situazione se ne va una volta ma c'è questa ammessa ad andare a servire perché ti asca il teatro dopo qua siamo portati e non lo fai e non lo fai e non lo fai e non lo fai e ci vuoi poi senta parliamo di cose che la bozza non lo fai addosso su tutti questi problemi non ha avuto proprio modo di pensare alla bozza eh già già ebbiamo dove sta stacco ma io sei tutto scena qui vedi se viene qua a tu vai vai stava lenti contro oh e ecco la tua mamma mia stacco mi aspetta salca che siamo rinchi? a me non è pesante a me è veloce, è un profreddo ma ci sarà una combinazione come disoccupate la vedo qui vedo qui mi viene un motore io tengo un modello io ho un modello manzova non c'è non c'è non c'è vediamo come aspetta un attimo non c'è non c'è non c'è non c'è non c'è io posso non c'è non c'è non c'è che non c'è non c'è non c'è non c'è Aspetta, c'ho un'altra tecnica! Questo funziona difficile! Aspetta! Poi ci sarà una combinazione! Sicuro è pesante! Ma che stai facendo? Quello non si ha! Ma si scema! Vai via! Ah! Vi sta pulendo! Che merda! Quello! Quanto ci sta la tecnica! E quando fai le cose? Fogli eh! Quello! Ma che la tecnica non c'è fuori! Guarda qui! Vedi ci sono forti! Pure le tue panciole! Ma cosa è finita? Ma qual è finita? Quello! Quello! Guarda qui! Ma cosa è finita? No! 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 Non c'è! Ma non c'è! Ma non c'è! Qui! Ma non c'è! Salvatore! 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 Tu! Tre prese e quattro russi! Ma ma stai facendo papi! Salvatore! Ma non c'è! Salvatore! Ci stava la combinazione! La combinazione ce l'hai potuta mettere brutto! Non c'è! C'è! Ma non c'è! Ma non c'è! Ma non c'è! Ma non c'è! Salvatore! Salvatore! Non c'è! Almeno che! Almeno che che rim Considering le persone faceva l'app gibb행er al okicherà! Che gabbia, brutto! Perciò, ma tirava la donna, come si aspettava che il porto non la prendesse la sua, e il mio mattino, e mi dovevo dormire. Ma come c'è il prezzo? Un bacchagnolo? E che bello, il pastorale, a casa dei musicali? Ma io ce l'hai fatto il terreno! Sì, ma cosa ce l'hai fatto il terreno? Ma te con i mascovini? I mascovini che siamo stati noi a fare la rapinta! E' la rapinta? Esatto, ma poi era! Quando c'è stata la valigia, non c'era niente! Ma secondo te, la polizia era lui o Milanesi, no? Ma come c'è l'altro? A noi non c'è lì! Dobbiamo trovare una soluzione! E' un bacchagnolo, un bacchagnolo! Oh, sai che cosa siamo fatto a perdonare? Sentimi bene! Lui? Ci voleva fare la nulla nostra insalutta! Oh, adesso siamo noi che ci facciamo la nulla sua insalutta! Che c'è? Ti ho capito! Ci dobbiamo fare la sorella! Se chiamo insalutta! Ma se è tutto scemo! Ma sua insalutta significa senza che lui sappia niente! E capito? Oh, ma ci ho capito! Vieni qua! Mi sta accettando! Tu adesso te ne vai! Ma no! Ah, scusa! Non avevo capito! Tu adesso te ne vai! No, no! E aspetti una mia telefona! Tu devi essere uno della compagnia! E' venuta a verificare la situazione! Eh! E che ti dico? Eh, ci devi dire! Noi abbiamo dei dubbi sulla rapina! Perciò non vogliamo pagare! Mi piace! Così non hai sordi! E' bello! Noi, ma se tu non sei! Tu non sei uno della compagnia originale! Tu ci hai fatto capito! Che se ti dà una bella nazzetta! E' una bella così! I dubbi sulle rapine scompaiono! E se è quello che mi dici! Eh! E quando ci devo cercare? E' il più possibile! Va! Fai mille euro! Uuuuuh! 500 euro! 500 euro! E' un paio! E' un paio! E' un paio! Ti raccomando! Ma vedete i barchi! Parlo all'italiano! Gagni da questa bannatura! Non ti preoccupare! Sto da pure! Vedi questa roba! Eh! Sono male! Vedi la mia madre! E' un paio! Sto da pure! Nascondi questa scherzo! Vedete? E' un paio! E' un paio! Vi sapeggisci troppo! Espegami da te! E' un paio! Ma ora lo metto il'altro! Vedi? Poi la rotta mia! Paola, vai! Non ti preoccupare! Me la pretoria! Espegami da te! Fuah! Iniziale! Ah! Tornando!